Musica L'arrivo a Salerno dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Selvini si inserisce nel progetto che vuole proporle per la città le figure di maggiore rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della psicoterapia Dopo il professore Alfredo Canevaro è toccato a Matteo Selvini approfondire uno dei temi più delicati della materia la presa in carico in psicoterapia delle situazioni difficili Il workshop è stato organizzato dall'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare Sessione di Salerno di cui è presidente il dottore Davide Amendola La filosofia dell'Istituto è quella di mantenere più alto possibile il profilo culturale scientifico nel settore della psicoterapia e più in generale in tutto quello che afferisce alla specialità Ma perché la scelta ricaduta su Matteo Selvini? Perché Selvini rappresenta oggi sicuramente un relatore che rappresenta una scuola di livello internazionale in Italia ma un modello esportato in varie parti del mondo o comunque un punto di riferimento e di confronto nel settore sia della psicoterapia relazionale classica sia di una psicoterapia relazionale che guarda all'integrazione con altri modelli psicoterapeutici Il tutto diventa qualcosa di particolarmente significativo e centrale rispetto a un'idea di sviluppo della scienza psicologica e psicoterapeutica verso il futuro dove certamente l'arricchimento e l'integrazione di competenze e di conoscenze altro non può essere che un miglioramento della qualità dell'assistenza Pensando alle problematiche di oggi quanto sono importanti, dottor Amendola, questi eventi? In una società così complessa l'intervento psicologico diventa sempre più importante e determinante soprattutto tra l'altro quando questo intervento è centrato molto sul lavoro sulle relazioni, sui sistemi e attraverso i sistemi sociali siamo in una condizione di grande cambiamento per cui se riusciamo all'interno del nostro territorio a migliorare sempre più la qualità dell'operatività e quindi degli operatori nell'ambito psicologico o psicosociale sicuramente diamo un beneficio alla comunità in stessa Il lavoro che l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Personale e Familiare sta portando avanti in città vuole riaffermare che la salute mentale non è una specializzazione della medicina ma è un terzo della salute umana tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute umana come un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale Alla salute psichica quindi dovrebbe essere dedicato almeno un terzo delle risorse materiali e umane che sono impiegate nella salute come sappiamo invece attualmente in Italia abbiamo una situazione per la quale solo all'incirca nelle migliori situazioni la spesa che riguarda la salute mentale è ridotta al 5% del totale quindi abbiamo ancora molta strada da percorrere ricordando che per esempio la depressione oramai è la seconda malattia più diffusa dopo le malattie cardiovascolari e arrivano a soffrire di qualche forma di aiuto neanche un quarto di coloro che ne avrebbero bisogno quindi è un campo da sviluppare nelle migliori condizioni possibili e quindi innanzitutto sul piano scientifico, teorico e pratico la venuta di Matteo Selvini Palazzoli vuole ribadire anche dal mio punto di vista che questa alleanza di questi tempi un po' insoliti tra milanesi e campani può essere una carta vincente nel senso di rilanciare l'intervento di psicologia clinica in particolare la terapia familiare come una delle modalità attraverso le quali si recupera anche una migliore organizzazione e strutturazione dei servizi pubblici di salute mentale con Matteo Selvini abbiamo parlato in particolare di disturbi alimentari un fenomeno che negli ultimi anni ha subito un notevole incremento ogni 100 ragazze in età adolescenziale 10 soffrono di disturbi alimentari una o due delle forme più gravi anoressia e bulimia in un peso che inizialmente ricade sui genitori ci spiega Selvini che sostanzialmente devono accorgersi che c'è qualcosa che non va nell'atteggiamento verso il cibo delle loro figlie e poi bisogna aiutare i genitori a capire come possono sostenere la loro figlia l'ipotesi più intuitiva più di buon senso di mando mia figlia dallo psicologo dal medico è in genere non è una buona risposta perché queste ragazze fanno molta fatica a rendersi conto di avere un problema proprio perché il sintomo stesso è un po' come una droga che ti fa stare bene e quindi queste ragazze sono poco motivate a chiedere aiuto magari la mamma li manda dallo psicologo loro ci vanno ma non parlano non dicono niente della loro vita perché in realtà sono contente così quindi quello che noi proponiamo è un approccio dove i familiari, i genitori vanno in terapia insieme con la figlia proprio perché insieme con la figlia possono aiutarle ad andare ai veri problemi che ci sono dietro perché il sintomo anoressico ripeto è un po' come fare uso di sostanze o altre dipendenze qualcosa che ti fa stare bene nel breve termine perché ti cancella quella sensazione di dolore o di angoscia però il problema della terapia è come invece aiutarle veramente a capire cosa non va nella loro vita è una crisi di identità perché la ragazza deve capire che se sta male c'è qualcosa di sbagliato in lei spesso c'è un tema per cui queste ragazze sono troppo buone nel senso che sono troppo sacrificali sacrificali verso gli altri tendono troppo a fare più gli interessi degli altri che gli interessi di loro stessi e quindi per stare veramente bene devono fare un grosso cambiamento di identità e questo non vuol dire che la terapia sia necessariamente lunga però il tempo che una ragazzina perché di solito queste ragazzine hanno 14, 15, 16 anni per fare un grande cambiamento devono proprio cambiare degli aspetti della loro personalità e un po' di tempo ci vuole con un buon intervento immediato sia psicologico che medico si può uscire subito dall'emergenza senza il ricovero in ospedale e la ragazzina può fare una vita normale andare ad esempio a scuola poi dopo i tempi per un vero cambiamento psicologico possono essere più lunghi però un intervento immediato che se non altro stabilizza la situazione è molto importante Dottore Vietri la salute mentale abbraccia più patologie non solo l'anoressia ma tante altre insomma c'è bisogno necessariamente della terapia Assolutamente credo che la parte interessante di questo intervento di Matteo Selvini oggi sia proprio l'aspetto tecnico che riguarda la convocazione e la possibilità di portare le persone che hanno un disturbo di qualsiasi area il caso di cui lui parla l'anoressia ma questo è valido per tutti i disturbi che riguardano il mondo intrapsichico convocarli in terapia riuscire a coinvolgere le persone riuscire a coinvolgere le persone è un aspetto tecnico molto specifico e molto complesso per chi si occupa di salute mentale in generale oltre che per chi fa psicoterapia per cui la costruzione di questi momenti formativi per i ragazzi e per gli operatori della salute mentale che sono oggi presenti significa proprio aiutarci ad aiutare le persone che sembra semplice non lo è sempre perché a volte chi soffre di un disturbo o non lo riconosce o ha difficoltà a riconoscere la necessità di chiedere aiuto quindi perde la possibilità di chiedere aiuto agli specialisti in generale la presenza oggi di Selvina è solo uno dei tanti momenti organizzati dall'ISPREF sì noi abbiamo un progetto importante qui a Salerno che è quello di coinvolgere delle figure internazionali nell'ambito della psicoterapia nell'ambito della salute mentale in generale che aiutino innanzitutto la formazione della nostra scuola perché poi diventino anche dei momenti di aggregazione tra tutti gli operatori della salute mentale che quindi diventino i momenti di superformazione di chi qui a Salerno lavora nella salute mentale oggi è un primo forse non un primo è uno dei primi passi ma il nostro progetto è con esperti italiani ed europei in generale Grazie a tutti.